167 Eileen Jeanette Garrett 1893 1970 strumento e scrittrice inglese i suoi primi compagni furono dei bambini che vedeva solo lei con cui giocava probabilmente nel piano astrale mentre era in collegio a dublino le muore lo zio e la Garrett dice vedi la cara figura di mio zio stagliarsi nitida davanti a me a effetti di personificazione chiaroveggenza e precognizione nel 1938 dopo una sua trans scrive da quel momento in poi non esistette alcuno spazio che fosse vuoto mi sembrava di sentire il peso e il movimento di una superficie condensata di cui tuttavia non percepivo né il peso nella gravità cominciai ben presto a muovermi dentro me stessa è difficile ciò che intendo se cerco di descrivere il modo in cui entra in questo stato posso soltanto dire che mi ci senti trascinata nonostante questi effetti la Garrett fu decisamente polemica contro qualsiasi concezione spiritista